Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Allora, io devo essere onesta, prima di fare questo video oggi ci ho pensato un bel po', perché comunque cerco sempre di portare un messaggio positivo nel mio canale, però comunque quando accadono delle cose che positive non sono, credo che allo stesso modo vadano condivise con quelli che comunque frequentano il mio canale, soprattutto con gli utenti di lunga data. Ora, cosa è successo? Io cercherò di non entrare troppo nei dettagli, parlerò per via generale, però comunque chi mi capirà assolutamente. Mi riferisco a una donna, una signora, che era una utente affezionata del mio canale e soprattutto la ritenevo una persona amica, con la quale ho condiviso tanto e credevo di aver dato tanto, però mi ha dimostrato ampiamente che così non era. Che ci fosse qualcosa che non andava l'avevo già intuito da un bel po' di tempo, perché comunque c'era sempre da parte sua un intento nell'entrare a gamba tesa in quella che era la vita privata, a carpire informazioni. Io non lo so per quale motivazione, per quale scopo, stavo a fare queste ricerche, queste indagini, perché comunque poi ora lo dico a te, che sai che sto parlando con te, e lo dico anche ad altri che operano in questo settore delle investigazioni moleste. E voglio dire che voi siete liberi di fare ciò che volete, ovviamente, non sta a me dire cosa dovete o non dovete fare, però per quanto riguarda la mia vita privata, la mia persona, potete scavare da adesso al 3020, non ci trovate nulla, perché comunque io ho una vita trasparente, ho una vita comune come gli altri, anzi magari a tratti anche noiosa, perché comunque ho seguito pari pari tutti i passi che sono da copione, cioè la scuola, il lavoro, la famiglia, quella è la mia vita, quindi state a cercare sul nulla, quindi risparmiatevi tempo perso, perché comunque a scavà scavà non ci trovate un bel nulla. Ora lo dico a te e lo dico in via generale, quindi ti saresti risparmiata, cara ex amica, tutto il tempo perso che hai buttato via per cercare informazioni. Ora io non lo so a che pro tutto questo, però comunque per quanto possa essere squilibrata la situazione, squilibrato il tuo comportamento, io ora non starò a fare il tuo nome, dato che tu nel mio canale non ci metti più piede, questo è poco ma assicuro. Ora qualcuno potrebbe anche magari farsi venire su qualche dubbio, qualche domanda, magari anche a capire cosa ha potuto fare questa persona. Ora io nel dettaglio vi ho anticipato poco anzi che non vorrei entrarci anche perché faccende del genere sono talmente lontane dal mio essere, dal mio modo di pensare che quando succedono rimango sempre un po' basita perché persone mature, persone che non sono dei dodicenni, sprovveduti, non ti aspetti mai un qualcosa del genere, soprattutto da questa donna che io credevo amica, la sentivo tanto vicina, le sono stata anche tanto vicina, credevo di averle dato tanto, sembrava tutta per bene, tutta carina, tutta gentile, però poi invece si nascondeva una bella viperetta dietro a questa persona qua. Ora io non ti dico null'altro perché comunque le cose che dovevo dirti te le ho dette, ho fatto questo video al solo scopo che magari se notate la mancanza nel canale di determinate persone sapete bene quello che è successo perché comunque per me un rapporto di qualsiasi tipologia si basa sulla fiducia e sul rispetto. Se vengono a mancare questi due principi basilari per quanto mi riguarda non c'è modo di poter avere nessun contatto perché comunque se io non mi fido di una persona, se una persona non si fida di me, che contatto, che possibilità c'è di portare avanti un rapporto? Ora per quanto riguarda la fiducia ovviamente è quella persona che ha perso la mia perché comunque sono venuta a conoscenza e ho visto con i miei occhi determinate cose che sono letteralmente inaccettabili quindi io non starò a parlare male di te o a farti video contro o mostrare quello che hai fatto, assolutamente non è nel mio. L'unica cosa che ampiamente ti ho spiegato e che voglio è che ti allontani definitivamente dal mio canale, dalla mia persona, ti fai la tua storia, la tua vita, magari vuoi attivare il canale, non lo vuoi attivare, anche perché poi ho scoperto che ha più di un canale questa persona qui, più di un canale da cui, da cui, questo lo voglio dire, c'è diversi fake da cui andava in giro a spargere un po' di zizzania e questa zizzania era tutta posta in maniera strategica perché poi le persone dovevano pensare che dietro questi fake ci fossi io, praticamente farmi attaccare da tutta YouTube, cioè pensate un po' che mentalità perversa certa gente, è una persona che si riteneva amica, che ti stava vicino, che ti ascoltava, che ti consigliava, e poi vai a scoprire dietro alle tue spalle tutto sto popò di siparietto, cioè uno lì per lì ci resta pure male, perché comunque, cioè io non ne vedo un pro a comportarsi in questo modo, però a quanto pare, ragazzi, sta diventando la consuetudine su YouTube. Ragazzi, io non voglio prolungarlo oltre questo video, lo scopo del video era che, se notate delle assenze nel mio canale, non chiedete neanche il perché, il perché ve l'ho spiegato, perché determinate persone hanno un comportamento che è veramente al limite del ricovero coatto, e onestamente io con determinate persone non voglio avere a che farci e preferisco che stanno più lontano possibile. Ci tengo a portare avanti un discorso di canale pulito, di canale leggero, di condivisione, di messaggi positivi e null'altro. Tutti i soggetti che sono contrari a questo, che cercano dissing, che cercano battibecchi, che cercano di creare zizzanie, li pregherei, a mio nome, e li esorto a non accostarsi neanche al mio canale. Se cercate, dissi, YouTube è piattaforma immensa, sicuramente ne troverete in altri canali. Quindi, ragazzi, io a malincuore ho fatto questo video, però è stato un video barra messaggio per una persona specifica, questa signora che credevo amica. Amica, non lo sei mai stata, e qualche dubbio c'era, però adesso ci sono state tutte le conferme. Per me va benissimo così, ti auguro tutto il meglio, buona vita, e l'unico consiglio che mi sento di darti è cercare di aggiustare questo modo di pensare che è malato, perché comunque non è normale comportarsi come ti comporti tu. Poi, state cogliere il consiglio, oppure no, accettarlo, oppure no. Io per oggi ho detto quello che dovevo dire, ora non lo so se in serata ci sarà una live, non lo so, forse da me, forse da Joker, non lo so ancora. Vediamo. Detto questo, vi saluto, e vi auguro buona continuazione di giornata. Un bacio a tutti da Gossip.